gentili telespettatori buona giornata beh quello che vi racconto ha dell'incredibile sapete luca palamara beccato con le mani nella marmellata vi ricordate alberghi pagati la moto che poteva utilizzare le chat intercettate dove diceva di colpire salvini uno dei capi della di una parte della magistratura corrotta beccato con le mani nel sacco viene espulso dalla magistratura e poi avrà anche altre cose e vuole scendere in politica perché perde il lavoro da magistrato e gli interessano quei 13 mila euro netti al mese da parlamentare la cosa più in che a parte questa che come dicevamo nel video precedente il classico è il classico è classico di quello che succede in italia voi combinate qualcosa e scrivete poi libri vi danno onorificenze vi invitano in europa a parlare vi fanno li ospitate in televisione andate in radio magari scendete in politica ecco in italia chi combina qualcosa alle porte spalancate curioso come paese vero la cosa più assurda che un politico di di la lega lo aveva proposto per essere candidato per il centrodestra nelle elezioni supplettive a roma vuol dire che a roma si è liberato un posto in parlamento da deputato e quindi c'è un'elezione per fare il supplente fino a fine legislatura diventare a tutti gli effetti un parlamentare italiano e così parlamentare e così palamara corre per cercarsi un lavoro e magari avere anche l'immunità capite la cosa incredibile che salvini dice e ma si è pentito è un figlio il prodigo ha capito ha avuto il coraggio di denunciare la magistratura il coraggio ma se l'hanno beccato con le mani nel sacco ma quale coraggio vabbè ma la corsa alle supplettive di roma spetta a forza italia o fratelli d'italia la lega alla lega non spetterebbe la decisione su chi candidare per quel posto ma qualcuno sospetta che c'è qualcosa di strano questi elogi che fa salvini a palamara sembrerebbero quasi un invito agli alleati meloni e berlusconi per piazzare palamara come candidato ma come ma io dico ma come si fa come si fa a pensare di candidare un personaggio di questo tipo veramente sono senza parole anche solo elogiare una persona che stava tramando alle tue spalle ma incredibile è cambiato ma qual è cambiato si è pentito no non è cambiato è cambiato perché in cerca di uno stipendio ma qual è cambiato fratelli d'italia non è disponibile a lasciare la corsa nel collegio agli alleati è vero spiegano che la regola è sempre stata che le candidature degli uscenti anche sconfitti si riconfermano o comunque si lascia al partito che le aveva espresse la scelta di chi presentare così è stato per le amministrative quasi ovunque ma dopo la rottura sul cda della rai e la non ricandidatura del membro di fratelli d'italia tutto è cambiato l'ha detto giorgia meloni avete cambiato le regole state cambiando le regole fate finta di non vedere le regole beh allora a questo punto rivediamo tutto tutto non è più così scontato come prima e questo è proprio il caso è proprio il caso nel quale fratelli d'italia può rendere a berlusconi e salvini i torti ricevuti in più fanno i calcoli nel partito di meloni dicono ma oggi forza italia conta a roma un 4 5 per cento come partito fratelli d'italia è circa il 23 per cento dicono così beh lavoriamo a un centrodestra unito ma le scelte devono avere un senso come dire andiamo a mettere un candidato di un partito che al 4 per cento invece di mettere un candidato di un partito che al 23 per cento ma voi sapete che in politica cercano di arraffare più poltrone possibili quindi lì non c'è la logica no certo immaginatevi che in forza italia no certo fratelli d'italia al 23 per cento prego mettete il vostro candidato quando il rai hanno arraffato il posto di fratelli d'italia e se lo sono portato a casa hanno fatto finta di niente ecco se hanno arraffato il posto in rai figuriamoci qui per una supplettiva in parlamento se stanno a guardare in faccia a qualcuno quelli di forza italia non gliene frega niente da che loro hanno il 4 5 per cento loro vogliono arraffarsi la poltrona in questo scenario le mosse di salvini quelle di elogiare questo palamara sono state viste come un modo per mettere un cuneo cioè il suo tenersi vago significasse un appoggio sotto banco a palamara magari per fare uno sgambetto agli alleati il timore c'è nonostante le parole di salvini e sempre di più è chiaro che servirà un vertice fra i leader per decidere strategie future e anche chi presentare a roma dove manca ancora il candidato del centro sinistra che dovrà decidere se presentarne uno unitario di pd leu e movimento 5 stelle o andare ciascuno per la propria strada beh io rimango come vi dicevo all'inizio del video abbastanza sconcertato che il centro destra e soprattutto salvini stiano pensando di candidare palamara ma palamara chiesto scusa salvini dicendo guarda che io non è che pensavo quelle cose di te in altre interviste io ti ho elogiato salvini ti sei fatto far su da palamara che fa il pentito che scrive il libro con sallusti è una strategia lui è stato beccato con le mani nella marmellata e ha attuato la la contromossa di attaccare sono pentito loro sono cattivi scrivo tutto in un libro è la è la colpo di coda di quello che è stato beccato al posto di sparire nell'oblio e star zitto è venuto fuori con questi colpi di coda anche perché non ha più uno stipendio per lui è un'occasione unica per avere uno stipendio e poi magari rimanere in politica capite l'occasione ghiotta del finto pentito del finto pentimento non credo che palamara possa portare i voti al centro destra palamara non ha un elettorato e mai ce lo avrà quindi che senso ha che senso ha candidare questo tizio che è controproducente anche per l'elettorato non credo poi che giorgia meloni lo accetterebbe mai e poi mai non credo proprio grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata arrivederci